dopo lo schiaffo murgiano ci si doveva rialzare perché lo chiedeva e voleva la classifica adesso non più a tinte nero verdi ma san micheline perché serviva soprattutto a loro alle loncelle ci hanno passato periodi decisamente migliori e per fortuna è stato fatto e non è un caso che a prendere la polisportiva bitonto per mano sia stata lei il capitano colei che non si nasconde mai quando c'è da affrontare anche le sconfitte anche quelle che fanno fracasso guarda caso oltre alla fascia indossa anche il numero 10 ed è sua l'impronta dell'ennesimo successo lontano da casa e in salento in modo particolare flora la rossa allora la sua fipletta riecheggia nel 5 a 2 con cui le loncelle hanno vinto a melissano contro sirio dove in trascorsa in campionato a suggellare il successo il diciannovesimo stagionale il dodicesimo su 12 in trasferta anche la rete di carmela anaclerio e simona porcelli in classifica nulla cambia perché il new cup passeggiando a martina non molla la vetta ed è sempre tre lunghezze avanti new cup 60 polisportiva 57 altamura 51 tanto per intenderci il resto si è incenerito strada facendo domani fermata numero 23 si torna a giocare dopo due ko consecutivi al paolo borsellino nella città dell'olio e del sollievo arriva il monopoli penultimo con 11 punti e e e Grazie a tutti.